Il pianopoli è di nuovo chiusa da alcuni giorni. La più grande discarica della Calabria continua a dare problemi. Con l'impianto catanzarese fermo, tutto il sistema di conferimento è paralizzato. E i primi ad aver dimostrato preoccupazione sono stati grillini. In alcune zone, hanno detto, potrebbero scoppiare delle vere e proprie bombe ecologiche. Gli stessi hanno anche chiesto al governo di fare marcia indietro sulla Tares, la tassa sui rifiuti, visto che pagare senza avere garanzia sui servizi minimi è fuori legge. Pronto a prendere provvedimenti è anche il sindaco di La Mezzia Terme Gianni Speranza. Infatti con pianopoli chiusa sono gli impianti del Lametino che stanno sopperendo ai disagi. Tutta la Calabria, insomma, scarica in questa provincia. Il primo cittadino di La Mezzia, pertanto, ha già annunciato che se nei prossimi giorni dovesse solo intravedere lo spettro di una emergenza sanitaria, non perderà tempo ad intraprendere azioni eclatanti. Annunciato ormai da qualche settimana, quindi, il problema di pianopoli si presenta in anticipo. I più ottimisti avevano previsto la crisi entro Natale 2013 e il collasso dell'impianto entro dieci mesi, ma a quanto pare la situazione sembra essere già fuori controllo. I comuni del Tirreno-Cosentino stanno già alzando bandiera bianca, alcuni non conferiscono l'indifferenziato da una settimana e le tristi scene cui siamo stati abituati fino a qualche mese fa potrebbero di nuovo fare capolino.